Buonasera, non parlo spagnolo, parlo solo italiano, però volevo ringraziare di cuore il professor Falomir per le belle parole e per avermi fatto l'onore di curare con lui questa mostra sui ritratti di Lorenzo Lotto. Ringrazio anche la fondazione degli amici del Museo del Prado per questo invito, per parlare in questa prestigiosa sede, sono onorato e molto contento di essere qui. E appunto di Lorenzo Lotto oggi parlo, non dei ritratti, ma della sua strana storia, perché effettivamente fu uno dei protagonisti dell'era dello Sgenios, ma a differenza di Tiziano, di Michelangelo, di Raffaello, di Arcimboldo, fu un perdente. I perdenti oggi non vanno di moda, non andavano di moda neanche tanto tempo fa e la sua vicenda è molto umana, molto toccante. Ci può dire delle parole moderne, contemporanee. Era un perdente dal talento straordinario, incapace di adattarsi ai tempi ed era incline alla fuga, aggrappato al suo talento e seppe realizzare delle opere che brillarono nel grande cielo della pittura italiana europea del Rinascimento. Però più o meno a metà della sua carriera, della sua storia, le cose cominciarono a andare, come diciamo in italiano, di male in peggio. E lui cercava la luce dello spirito, cercava Dio, cercava una tranquillità e una serenità interiore e si perse in una notte molto profonda. E le sue stelle cominciarono a cadere presto. E la sua divenne un'esperienza marginale, come Ben viene a documentare per primo Giorgio Vasari, che scrive qualche anno dopo la sua morte e non lo consacra. Inserisce alcune informazioni all'interno della vita di Jacopo Palmalve, che è un pittore meno importante di Lorenzo Lotto, in cui dà anche informazioni su altri artisti ancora meno importanti, come Nicolò Rondinelli. Vasari sostanzialmente ricorda solo qualche opera a Venezia e tante opere nelle Marche, soprattutto del periodo più tardo, più ultimo, più estremo. E dopo Vasari ovviamente si è destinati a una sorta di oblio, a un progressivo abbandono. Ci sono delle fonti che parlano di lui, ma sono sempre delle fonti che ci danno poche informazioni e poco coerenti. Non sappiamo quasi nulla di lui. Dobbiamo aspettare la fine del 1800, quando un giovane critico, Bernard Berenson, decise di soffermarsi sulla figura dimenticata di Lorenzo Lotto, per scrivere quello che fu il suo saggio più importante della giovinezza, dal titolo Lorenzo Lotto, un saggio per una storia dell'arte costruttiva. Riuscì a mettere insieme le opere che erano state dimenticate, che erano disperse per l'Italia e per il mondo, intuendone la grande modernità. Per tutta la vita inseguì la produzione di Lorenzo Lotto, fece varie edizioni di questa monografia, diventando legato a doppio filo alla figura di questo artista italiano, che contribuì a rivalutare in modo straordinario. Vediamo la foto a destra che lo ritrae all'ingresso della mostra che si venne a Venezia nel 1953, dedicata appunto a Lorenzo Lotto, ma la sua ultima monografia è piena di errori. Lo aveva talmente inseguito che si era confuso, si era perso anche lui. E lui, che era il padre della conossership, il grande attribuzionista che non sbagliava quasi mai un'attribuzione, alla fine della sua vita riuscì a sbagliare il libro sull'autore tanto amato. Alla fine dell'Ottocento si trovò un documento straordinario che era il libro dei conti, in cui a partire dal 1538 Lorenzo Lotto si annotava tutto quello che capitava nella sua vita, ma soprattutto nella sua dimensione lavorativa. E quindi noi da questo momento in poi riusciamo a seguirlo nell'ultima parte della sua carriera. È un libro importantissimo che ebbe tre edizioni critiche e ci consentono di avvicinarlo in un modo molto più diretto rispetto a tanti altri artisti del Rinascimento. Cominciano le ricerche d'archivio, si trovano alcune lettere dei testamenti, come questo che si conserva all'archivio di Stato di Venezia, e che ci consente di sapere che era nato a Venezia nel 1480, perché lui inizia questo testamento dicendo io Lorenzo Lotto veneziano de anni circa 66. 1480-81 è un quesito filologico, perché noi non sappiamo come computavano l'età all'epoca, se all'ingresso, come gli antichi romani, o se al compimento, come facciamo noi per sembrare più giovani. All'epoca non era ancora chiaro. E quindi può essere nato tanto nel 1480 quanto nel 1481 da un padre che si chiamava Tommaso, della madre non sappiamo nulla. Sappiamo che ebbe una buona educazione, i primi documenti ce lo mostrano in contatto con Patrizzi prestigiosi. E sappiamo, perché il libro dei conti si interrompe nel 1556, che morì alla fine del 1566, alla fine di un'epoca. La sua produzione inizia all'inizio del secolo e finisce poco oltre la metà del secolo. E lo vedete bene anche solo da queste due immagini, lui stesso cambia moltissimo la percezione che ha delle persone, della vita, del mondo. In quella prima metà del Cinquecento, in Italia, in Europa, in tutto il pianeta, successero delle cose che cambiarono le prospettive. Il 1556 è l'anno in cui anche Carlo V rinuncia al titolo di imperatore. Un mondo stava cambiando e tra questi due estremi, il ritratto di Giovane con Lucerna di Vienna del 1506 e il ritratto di Barrera, vedete che è passata tanta acqua sotto al ponte della vita di Lorenzo Lotto. In più era un grande viaggiatore. Lui lavorò a Venezia, a Treviso, nelle Marche, a Roma, probabilmente passò a Perugia, riuscì a passare per Firenze, lavorò moltissimo nel cuore della Lombardia, a Bergamo. Quindi la sua vicenda è una vicenda che in qualche modo rilega anche la storia dell'arte italiana della prima metà del Cinquecento. Ma tutto parte da qui, parte dalla sua Venezia, dove noi dobbiamo immaginarlo giovane di 15 anni che entra in un contesto straordinario dal punto di vista culturale. Era la Venezia più potente della storia, quella che non era stata ancora ridimensionata dagli eserciti della Lega di Cambrai, quando tutta l'Europa si coalizzò per arginare il suo strapotere. Era una Venezia pullulante di artisti che stava diventando sempre più monumentale, con tantissime officine librari, con scienziati, con scultori, con poeti, con musicisti. Viene messo a bottega quasi certamente, come aveva intuito Bernard Berenson, da un pittore che si chiamava Alvise di Vivarini, che era originario di Murano, era l'ultimo esponente di una gloriosa famiglia di artisti, che a un certo punto della sua carriera si innamorò della produzione di Antonello da Messina, che era arrivato a Venezia nel 1475. E in alcune opere di Alvise Vivarini, come ad esempio il ritratto che vedete in alto a sinistra, che si conserva al Museo Civico di Padova, si capisce molto bene quanto Alvise aveva studiato i capolavori ritrattistici di Antonello. E come ogni maestro che si rispetti, avrà cercato di trasmettere l'amore per i suoi ideali artistici anche al suo migliore allievo, Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto che sarà entrato nelle chiese per vedere le pale d'altare lasciate da Antonello da Messina, come la pala di San Cassiano, di cui resta un frammento della parte centrale al Consistorisches Museum di Vienna. Ma sarà riuscito anche a vedere alcuni suoi ritratti, ritratti come quello in basso, caratterizzati da una straordinaria potenza psicologica, una concentrazione di indagine in cui su un fondo nero emerge la personalità e emergono tutte le caratteristiche fisiche di questi nobili e ricchi borghesi veneziani che facevano la fila nel 1475, nel 1476 di fronte allo studio di Antonello da Messina, che se ne andò presto da Venezia e che però lasciò una grande eredità morale. Antonello e Bellini, Giovanni Bellini, furono i due maestri ideali di Lorenzo Lotto, che comincia a lavorare probabilmente a Treviso e ci lascia delle opere molto singolari, molto particolari, come questo ritratto di giovane che si conserva all'Accademia Carrara di Bergamo, databile agli ultimissimi anni del 1400, forse all'inizio del 1500, un'opera che evidentemente dipende dai modelli di Antonello da Messina, ma che ci dà una interpretazione molto personale, perché Antonello posizionava sempre i suoi personaggi di tre quarti e invece Lorenzo Lotto fa rivolgere frontalmente questo giovane dall'aria sognante, malinconica, verso di noi e ci induce a cercare dentro questi occhi così azzurri qualche caratteristica della sua anima. È chiaro che qui siamo all'interno di una stagione dell'arte veneziana, della ritratistica veneziana, che è già toccata dai primi esempi di Giorgione e di pittori così sensibili come Giorgione e pochi altri. È interessante peraltro che il retro del ritratto presenta una decorazione in finto marmo e questo significa che era un oggetto che doveva poter essere voltato come un dono che si può guardare davanti e dietro e questo finto marmo è un diaspero di Sicilia. Si vuole ingannare l'occhio, si cerca di descrivere le fisionomie dei personaggi ma nello stesso tempo anche di alludere a qualcos'altro. Il marmo può forse fare riferimento alle lastre marmore che accolgono anche i giovani se hanno la sfortuna di morire. Eh sì, entrare nello sguardo di questo personaggio in un'opera di Lorenzo Lotto del 1500 circa significa capire che siamo di fronte ad un artista dalle potenzialità enormi. È già un genio ma quello che riserverà la sua vita sarà molto diverso da quello che potevamo intuire da immagini come queste. È veneziano ma si trova a lavoro a Previso dove entra nelle grazie del vescovo locale. Era un vescovo originario di Parma, si chiamava Bernardo De Rossi e lo vediamo in questa tavola che si conserva al Museo di Capodimonte a Napoli in tutta la sua prepotenza fisica. È un dipinto che non possiamo disgiungere dai modelli di Antonello da Messina e di Giovanni Bellini ma che ha anche un'aggressività interpretativa che ci fa pensare che Lorenzo Lotto a Treviso e a Venezia possa essere già entrato in contatto con alcuni prodotti nordici. Anche il fatto di accompagnare il ritratto del vescovo con una coperta cioè con un pannello che doveva coprire il ritratto agganciato con due perni per poter essere chiuso a libro rimanda a una tipologia di tipo tedesco e sul verso della allegoria che adesso voi vedete a sinistra compariva una scritta latina che ci diceva che si trattava del ritratto di Bernardo De Rossi eseguito nel 5 luglio del 1500 da Lorenzo Lotto come un libro si doveva chiudere e aprire. La cosa straordinaria è che in questo dittico Lorenzo Lotto illustra l'aspetto fisico di questo personaggio ma nello stesso tempo anche i suoi orizzonti interiori, la sua anima. Quella che vedete a sinistra è un'allegoria complicatissima che è stata spiegata in maniera esemplare da una studiosa morta pochi mesi fa, una studiosa di Bergamo che si chiamava Francesca Cortesi Bosco ed è un'allegoria della contraposizione tra la virtù e il vizio ma la cosa bella è che sta al centro di questa composizione un albero che si schianta, che muore nel momento stesso in cui l'anima sceglie il vizio e si rigenera nel momento stesso invece in cui è più prossima alla luce, a questa luce che illumina un putto che ascende su un monte la cui cima è coperta da una nuvola perché il Dio non si può vedere, bisogna immaginarlo attraverso il diaframma, attraverso il filtro di una nuvola e questa è l'allegoria del rinnovamento interiore sulla base di alcuni testi del 1300 scovati da Francesca Cortesi Bosco nella biblioteca del Vescovo dei Rossi, ritrarre il corpo e ritrarre l'anima, un'operazione molto difficile. La fama di Lorenzo Lotto si espanse e nella provincia di Trevisovi era l'unica corte esistente nella Repubblica Serenissima, la corte che i veneziani avevano concesso a Caterina Cornaro, regina di Cipro, quando lei aveva rinunciato nel 1489 al suo regno nell'isola di Cipro. Era regina di Cipro, di Gerusalemme e di Armenia e pur di indurla a lasciare il suo regno in mani veneziane, lei era una veneziana, le concessero di creare una sua corte in uno dei luoghi più belli del Veneto, il paese di Asolo. E ad Asolo Lorenzo Lotto viene chiamato per realizzare una pala straordinaria che vedremo nella mostra che aprirà il 18 di giugno qui al Prado e che raffigura due santi, Antonio Abate e Ludovico da Tolosa, in un ampio paesaggio ai lati di un sentiero che conduce proprio ad Asolo, al centro ci sta un cartiglio con il nome di Lorenzo Lotto, e sospesa come in cielo una vecchia Madonna assunta, i cui tratti fisici ricordano in modo molto forte quelli di Caterina Cornaro. È quello che gli specialisti chiamano un criptoritratto, cioè realizzare un ritratto di una persona ben riconoscibile nelle vesti di un personaggio sacro, profano o mitologico importante. Perché? Perché si sottolinea che di quel personaggio questa persona poteva in qualche modo assumere le prerogative, le caratteristiche. Caterina Cornaro era regina di Cipro e era anche regina di Gerusalemme, una specie di Madonna, era molto devota e l'albero che sostiene questa specie di apparizione mariana, come ha scoperto un botanico, è un cipresso nella specie orientale proveniente dall'Egeo. I confini di Treviso e di Asolo erano diventati troppo piccoli per Lorenzo Lotto e si trova a cominciare uno dei suoi primi spostamenti. Nel 1506, da Venezia, lui prende una barca e costeggia tutta la costa occidentale del mare Adriatico per fermarsi a Recanati. A Recanati nel 1506 firma un contratto in cui si impegna a eseguire un politico che è giunto fino a noi ed è un politico composto da un pannello principale al centro e vari intorno che vi assicuro è uno dei quadri più belli del mondo. È un quadro che ha un miracolo di equilibrio e perfezione, ogni centimetro quadrato può essere guardato con le lenti e riesce a trasmettere un senso di aderenza degli occhi del pittore al visibile che, devo dire, non trova termini equivalenti se non ad esempio in certi capolavori di Dürer ma con in più un afflato, uno spirito di idealità che dipendeva dal fatto di essersi formato in una delle culle della classicità nell'Italia del Cinquecento, ossia Venezia. Ogni centimetro quadrato, ma ogni pannello, ogni dettaglio del pannello di questo quadro suscitano stupore, anche perché ci sono delle invenzioni straordinarie. Guardate ad esempio questo Cristo morto come un grande guerriero che viene sostenuto dall'angelo, dalla Maddalena che bacia la mano del suo signore. Un'altra piedonna si copre il volto anticipando in questo caso un'indeazione che Girolamo Savoldo avrebbe divulgato più volte qualche anno dopo, ma guardate ad esempio lo sguardo fisso di Giuseppe d'Arimatea che sostiene il corpo e il capo di Cristo. Siamo di fronte a un vertice straordinario e in virtù di questi esiti Lorenzo Lotto ha una sua grande chance. Viene chiamato a lavorare a Roma. La Roma di Papa Giulio II, la Roma che è il cuore della cristianità, lui sempre ha dimostrato una grande religiosità e quindi deve essere stata un'esperienza molto forte anche in questo senso. Ma Roma era il collegamento tra la classicità e il presente, era il luogo in cui tutti gli artisti desideravano andare per poter studiare la colonna traiana, il Laoconte che era appena stato scoperto, l'arco di Costantino, il Colosseo. L'antichità che Lorenzo Lotto poteva vedere a Roma era molto diversa da quella che poteva vedere nelle collezioni più sofisticate di Venezia, dove trovava dei prodotti greci che arrivavano dall'Egeo. Qui lui si trova di fronte alla grande eredità della cultura architettonica e statuaria romana. E viene chiamato da Papa Giulio II, uno dei pappi più energici del Cinquecento, che amava le arti e che aveva avuto la volontà di, come dire, esprimere la grandezza del suo stato anche attraverso una sistematica convocazione dei più grandi artisti di tutta Italia. A Roma Lorenzo Lotto incontrò probabilmente anche dei personaggi importanti a Venezia, come il cardinal Domenico Grimani, patriarca di Aquileia, committente di Giorgione, che abitava a Palazzo Venezia e abitava anche al Quirinale. E quindi inizialmente poteva avere un'accoglienza come meritava, come uno dei grandi pittori veneti che vengono chiamati al servizio del Papa. Solo un quadro della sua esperienza romana è giunto fino a noi certamente suo. Questo San Girolamo penitente in un paesaggio bellissimo, già abbastanza diverso dai paesaggi che aveva realizzato in precedenza Lorenzo Lotto, che chiaramente è realizzato a Roma. Guardate, si trova a Castel Sant'Angelo, nel Museo di Castel Sant'Angelo, ma vedete che sul fondale c'è anche il ritratto di Castel Sant'Angelo ben riconoscibile. È un San Girolamo trionfante nella sua penitenza, non è un San Girolamo come quelli che realizzerà nella parte finale della sua carriera, tumefatto, umiliato, sofferente. È un santo che è il protagonista di queste esegesi, dal fisico statuario, da culturista. Guardate il tronco che chiaramente esprime il contatto con il torso del Belvedere. E io addirittura sospetto che in questo braccio, nel braccio che si allunga sul libro, ci sia già un incontro con Michelangelo. Però non lo so. Non lo so. Poi, nella vita, a volte succede quello che uno non si aspetta. E il Papa, quel Giulio II che l'aveva chiamato a lavorare proprio nel cuore dei suoi appartamenti, decide di coagulare l'intera Europa contro Venezia. Venezia si era troppo espansa in terraferma, aveva una politica aggressiva, mangiava territorio, diventava pericolosa, non solo per i piccoli stati italiani, ma anche per l'imperatore, per la Francia, ma soprattutto per lui, per il Papa, perché andava a erodere porzioni di territorio in Emilia Romagna e nelle Marche. Coagula i grandi d'Europa nella Lega di Cambrai, che nel 1509 arriva sul limite della distruzione di Venezia. Solo per poche decine di chilometri di territorio non conquistato, Venezia non crolla. La storia di Venezia poteva finire nel 1509. Non è così perché alcuni patrizi, che poi diventeranno dogi, come Andrea Gritti, riusciranno a riconquistare punti strategici come Padova, come Vecenza, come Verona, e a riposizionare le truppe nel territorio. Fatto sta che proprio in questo 1509-10 il Papa decide di far cancellare tutti gli affreschi che Sodoma, Pinturicchio, Lorenzo Lotto avevano realizzato nella stanza di assegnatura per affidarsi a Raffaello. E quello che resta di questa distruzione è quello che vedete in questa diapositiva. Quindi forse Giulio II aveva avuto anche ragione. Va provate a immaginare come poteva sentirsi Lorenzo Lotto. Chiaramente sconfitto sul piano professionale, turbato dal rendersi conto che la moda più alla page a Roma era molto diversa da quella raffinatissima, sofisticata che lui portava ai livelli più alti. E poi anche questa fibrillazione, questo entusiasmo incontenibile per l'antico, l'antico, tutti che parlavano dell'antico, che copiavano l'antico, che imitavano l'antico, era diventata una sorta di ossessione. Se ne andò da Roma probabilmente scioccato. E se ne tornò nelle Marche. Ma probabilmente passò anche per Perugia, per andare a vedere un capolavoro di colui che aveva soppiantato non solo lui, ma anche tanti altri artisti, ossia Raffaello. Una delle pale che realizza nelle Marche è una chiara risposta alla deposizione che Raffaello aveva realizzato per Atalanta Baglioni, per una chiesa di Perugia. Ma, come dire, la porta su un piano espressionistico ancora più marcato e introduce dei cambiamenti che addirittura andavano a ripescare delle invenzioni di Mantegna. Ma il Lorenzo Lotto che ritroviamo qui nelle Marche, subito dopo l'esperienza romana, è completamente diverso dal Lorenzo Lotto, del politico del 1508. È un uomo in crisi. Guardate questa trasfigurazione a Recanati, addirittura la dimensione spaziale non esiste. È tutto risucchiato su un piano di bidimensionalità strano in cui gli Apostoli sembrano quasi cadere su di noi. è successo qualcosa che ha lasciato il segno e Dallemark decide di attraversare l'Italia ancora una volta, probabilmente su invito di alcuni mercanti bergamaschi per ricevere una committenza molto importante. La committenza di una pala enorme il cui contratto viene a stilare nel 1513 da parte del nipote di Bartolomeo Colleone, il grande condottiero che conosciamo attraverso il gruppo equestre che sta nella piazza, nel campo di fronte alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. È una pala di dimensioni colossali realizzata in un paio d'anni di lavoro e datata a 1516 con la quale Lorenzo Zolotto inizia quella che è una delle fasi più felici della sua vita. A Bergamo i grandi pittori bergamaschi locali avevano deciso di andare a lavorare a Venezia. Quelli che erano rimasti erano incomparabilmente inferiori a lui per qualità e inventiva. E cosa riesce a fare Lorenzo Zolotto? Riesce a conquistarsi la fiducia di alcuni ricchi mercanti, ricchissimi mercanti, che si mettono in posa di fronte a lui e accettano di essere ritratti nelle maniere più anticonvenzionali che si possano riconoscere nella retratistica italiana e europea di questi anni. Ne vediamo uno, la Lucina Brembate, una donna non bella. Lorenzo Zolotto non fa un'operazione di miglioria estetica. La descrive per come era, ma la descrive come una regina con gioielli, perle, abiti lussuosissimi, questo pendente che forse si dice era uno stuzzicadente alla moda, con una mano che ostenta vari anelli, con una stola di mustelide che andava di moda perché andava, come dire, ad attrarre le pulci, non si lavavano tantissimo, allora le pulci dei capelli andavano in questi animaletti che venivano lavati. e gioca, e gioca con i simboli, tutti questi possono essere dei simboli, la mano appoggiata sul ventre, chissà è un auspicio di gravidanza, ma guardate come va a richiamare il nome di Lucina, disegna nella notte dello sfondo una falce di luna con al centro una sillaba C che spacca la luna e si crea un rebus, Lu-C-I-Na. Lucina aveva un marito che si chiamava Leonino, eccolo qui, a Vienna, che ostenta una piccola zampa di leone, è chiaramente un gioiello, si piega in un gesto di, come dire, eleganza, di saluto, portandosi la mano al petto, anche lui ostenta degli anelli, ma guardate la testa, guardate la concettura, guardate la soluzione del fondale, non trovate molti quadri come questo in movimento, dinamici, nella ritrattistica solitamente aulica, solitamente di parata, che si registra in Italia dal centro al nord in questi anni. inaugura una tipologia retrattistica che non ha precedenti, almeno a quello che mi risulta. Guardate Messer Marsilio Casotti con la sua sposa, ritratti nel momento stesso in cui di fronte al pittore lui le sta mettendo la fede nunziale all'anulare. Bernard Berenson guardando questo quadro disse che Lorenzo Lotto seppe descrivere in maniera mirabile le dolcezze e le nevrosi di un matrimonio. Guardate come compare alle spalle dei due coniugi un cupido che sta ponendo alle loro spalle un gioco un gioco coniugem cum jungo metto insieme un gioco dall'oro pianta sempre virtuosa e lo guarda e dice la stessa cosa che disse anche a me quando mi sposai peraltro riesce a inventare delle cose che ci lasciano assolutamente stupefatti questa venere si mette in posa quasi completamente nuda anzi completamente nuda con un bicchini costituito da cinque petali di rose posizionati lì che regge una ghirlanda di mirto pianta coniugale di fronte a un cupido che con una straordinaria precisione balistica riesce a indirizzare il flusso della sua urina esattamente sulla vulva di venere voi direte ma chi si metteva in casa dei quadri così anche perché poi questa venere insomma se la metteva il marito nella camera da letto per favorire l'eccitazione che portava al concepimento degli eredi della nuova famiglia questo tipo di quadri doveva essere molto più diffuso di quanto noi non possiamo immaginare ma potete ben immaginare come nelle epoche successive siano stati guardati come dei quadri pornografici che non erano erano dei quadri molto ironici pieni di 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 vissi interpretativa particolare facevano ridere e auspicavano dei valori positivi riesce a far ridere scardinando anche lo schema della palla d'altare crea delle grandi feste religiose all'aperto guardate una delle tre pale del 1521 realizzate sempre a Bergamo dove questo San Giovannino è lo stesso che abbiamo visto mettere il gioco dietro Faustina e Marsilio Casotti che sta strangolando il l'agnello che è l'attributo di San Giovanni Battista e ride anche ci invita a ridere a giocare con anche con la dimensione sacra un pittore può descrivere l'esterno di un corpo può descrivere l'interno lo abbiamo visto nel ritratto del De Rossi ma può descrivere anche ciò che non si può vedere qui fa un ritratto della Trinità con il Cristo che è tipico e lo Spirito Santo che è in forma di colomba e Dio Padre come una specie di ombra fatta con la luce e con e con le nuvole perché il padre nessuno l'ha visto tranne il figlio un ritratto di Dio un ritratto della Trinità un grande senso di religiosità pervade Lorenzo Lotto anche perché è in contatto con personaggi come Battista Suardi che gli chiedono di creare delle stranissime allegorie che vanno oltre la narrazione evangelica e biblica qui siamo in un piccolo oratorio nella provincia di Bergamo a Trescore Balneario dove Battista Suardi chiamò Lorenzo Lotto chiedendogli di realizzare un Cristo che diventa vite io sono la via la verità e la vita diventa vite e noi siamo i tralci una vita che si dirama presentando tanti santi che sono attaccati da alcuni eretici che salgono ai lati con delle scale che cercano di tagliare questi tralci e vengono catapultati giù perché Cristo vince opere molto particolari realizzati in un particolare frangente storico perché si pensava che nel marzo del 1524 ci sarebbe stato un diluvio universale pari a quello di Noè nell'aprile del 1524 ci si accorse che le cose andavano avanti lo stesso e Lorenzo Lotto continuò a dipingere dipingere quadri come questi che sembrano abbastanza convenzionali una Madonna col bambino con due santi ma che invitano una riflessione diversa questo San Girolamo sta davvero piangendo meditando sul crocefisso che tiene in mano e guardate su quale specie di culla è appoggiato il Gesù bambino un Gesù bambino che è appoggiato su una bara e Lorenzo Lotto si firma e data l'opera sulla bara quando ero ragazzo partecipai a una conferenza alla Fondazione Cini di Venezia in cui uno psichiatra che si chiamava Salomon Resnik appassionato di storia dell'arte fece vedere una diapositiva di un quadro di Van Gogh dove Van Gogh aveva fatto la sua firma nel centro di un catino e disse questo è l'inizio è l'indizio chiaro che era in depressione e mi rimase sempre dentro il dubbio di chiedermi dove gli artisti firmavano nel caso di Lorenzo Lotto ci sono delle firme molto significanti guardate questo Cristo portacroce è un close up come se noi avessimo un'apparizione da una finestra di un Cristo che sta passando di fronte alla nostra casa sotto la nostra cucina regge la sua croce della quale si vede solamente un braccio una specie di L rovesciata ma guardate dove si firma si firma al contrario guardando sostanzialmente Cristo la firma guarda verso Cristo sono casualità assolutamente no ogni cosa ogni dettaglio ha un suo significato l'idea della morte entra nell'animo di ognuno di noi a volte ci pensiamo di più a volte ci pensiamo o meno e ci si chiede ma insomma cos'è la vita e ci sono dei quadri molto particolari di Lorenzo Lotto che insomma costituiscono un monito come questo ad Ennick Castle con un putto che incorona un teschio appoggiato su un cuscino bianco ma la cosa interessante in questi anni Lorenzo Lotto ci fa capire che ogni immagine può avere una sua allegorizzazione attraverso le terzie che realizza nel coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo dove c'è una storia e il coperto di una storia che rappresenta sempre la metaforizzazione di quell'episodio qui vedete Caino che uccide Abele il coperto presenta che cosa Giuda che bacia sulla bocca Cristo Abele prefigurazione di Cristo Caino prefigurazione di Giuda con un albero morto con un ramo secco vicino a Giuda e un ramo vivo vicino a Gesù a un certo punto anche la felice esperienza bergamasca si chiude e decide di tornare a Venezia evidentemente via terra attraversa Brescia Verona Padova prende la barca ed entra a Venezia e all'inizio viene ospitato nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo per l'economo della quale realizza questo splendido magnifico ritratto che si conserva nel Museo Civico di Treviso un quadro così intenso che ogni dettaglio presenta come dire un senso della bellezza dell'armonia e dei richiami semantici che ci inducono a soffermarci sulla diversità di questo grande ritrattista lui arriva a Venezia in una Venezia diversa è la Venezia di Palma il Vecchio del Tiziano ormai celebre di tanti altri pittori allacremente al lavoro ed è convinto che bastino prove di questa qualità per conquistarsi una nuova una nuova clientela entra in contatto con un mercante di origine milanese Andrea Odoni è appassionato di antichità e realizza questo ritratto imperiale straordinario Andrea Odoni rappresentato nel suo studiolo accanto appunto a dei modelli dall'antico che lui non possedeva con un libro chiuso delle monete antiche e moderne tiene in mano una statuetta di Diana Efesina era sposato desiderava di avere un'erede e non l'aveva Diana Efesina era una divinità che presiedeva proprio alla generazione aveva molti seni allattava molto e tiene una mano sul petto seminascondendo una croce dicendo che anche nella pienezza della sua ricchezza ciò che gli stava a cuore era la fede in Cristo e la prosecuzione della sua famiglia con opere di questo genere è davvero uno dei pittori più talentuosi di Venezia una sacra conversazione come questa è bella come quella di Tiziano non ha alcun cedimento e riceve la sua prima commissione da una chiesa veneziana siamo nel 1527 gli viene chiesto dalla confraternita dei mercanti di realizzare questo San Nicola in gloria tra Battista e Santa Lucia su un bellissimo paesaggio è una pala particolare molto dolce dai colori freddi ma con questo bellissimo paesaggio bene con questa pala inizia il declino della stella di Lorenzo Lotto a distanza di alcuni decenni questo quadro bellissimo verrà portato come esempio di cattive tinte dagli accoliti di Tiziano della sua cerchia non riuscirà ad avere molte commissioni dalle chiese veneziali sono tre le pale a Venezia da quel momento in poi comincia evidentemente un fenomeno di quello che oggi chiameremmo mobbing una demolizione lenta strisciante dell'artista e della persona ci sono dei quadri che rivelano in Lorenzo Lotto uno strano stato d'animo Apollo si è addormentato e le muse sono scappate Apollo si ritrova solo e realizza opere come questa in cui non capiamo se siamo di fronte a un santo o a un eremita e ci viene in mente quello che lui scriveva esattamente in questi anni auspicando di potersi sequestrare al mondo cioè di scappare dal mondo dichiara di avere l'animo provato da strane conturbazioni in una lettera di questi anni è entrato in depressione aveva 50 anni si è trovato in un ambiente che non era più la Venezia che conosceva senza moglie senza famiglia in un clima molto competitivo e quindi ancora la fuga vediamo una fuga in una notte in un quadro che nessuno ha mai visto sta in una collezione privata inglese un notturno Lorenzo Dotto spesso si soffermò a descrivere i notturni e ancora una volta riprende la barca costeggia ancora la riva occidentale dell'Adriatico e torna nelle Marche ad Ancona e ad Ancona realizza delle opere che per Venezia non erano adatte opere bellissime come questa pala di Santa Lucia con una predella straordinariamente narrativa opere strane come questa Madonna col bambino con i due santi che portano le loro croci ognuno di sé ognuno prende la sua croce e mi segua diceva Gesù Sant'Andrea e San Girolamo e la firma anche in questo caso è sulla croce di Sant'Andrea opere in cui riesce ancora a trovare il guizzo il senso di ironia e di sorpresa per cui uno che si trova di fronte a questa Madonna col rosario resta colpito da che cosa? da questi tre angioletti che attingono a una tinozza piena di petali di rose bianche che vengono gettate verso di noi l'idea della morte la ritroviamo in alcuni suoi ritratti bellissimi come questo uomo melanconico alla galleria borghese di Roma si pone una mano sul fianco in segno di dolore e con l'altra mano ferma petali di rose e di gessomino che circondano un piccolo teschio mentre sullo sfondo San Giorgio insegue un drago mentre la sua principessa sta scappando sono quadri strani in cui entra in campo un'interpretazione psicologica per nulla nobilitante di persone che si fanno ritrarre in un momento di dolore di sofferenza di morte di riflessione sul significato dei sentimenti della vita da questi anni cominciamo a seguirlo anche quotidianamente attraverso il libro di Steppese diverso e cominciamo a capire la sua mentalità ancora una volta fugge fugge dalle marche torna a Venezia e se ne sta in casa di suo nipote un nipote particolare era un avvocato ma ha una grande chance quella di realizzare un'opera molto importante per la chiesa dei domenicani una palla che raffigura il vescovo di Firenze dell'inizio del Quattrocento che riceve la visita di alcuni angeli che lo consigliano affinché i frati domenicani veneziani concedano delle elargizioni al popolo l'opera viene commissionata nel 1540 ci lavora per un paio d'anni e colpisce per il fatto che qui c'è un ritratto di coloro che non potevano permettersi dei ritratti i poveri i mendicanti le vedove al centro c'è un uomo che si rivolge all'economo allungando le braccia sopra la sua testa c'è la firma è vestito di rosso probabilmente l'autoritratto dello stesso pittore che nel libro dei conti nel 1541 come ha scoperto Doretta d'Avanzo Poli che scrive un saggio sugli abiti di Lorenzo Lotto nel catalogo della mostra beh insomma compra una stoffa per un saio rosso è molto probabile che questa stoffa sia stata ritratta in questo autoritratto sono anni in cui lui consegna delle immagini di straordinaria intensità dei ritratti veri profondi guardate questo vecchio che regge un guanto e un fazzoletto quando ero molto giovane ero in piazza San Marco nelle procuratie a vedere la mostra di uno degli ultimi grandi pittori veneziani figurativi un pittore dimenticato era molto vecchio comprai il catalogo si chiamava Luigi Tito un pittore dimenticato grandissimo comprai un catalogo e andai da lui e gli chiesi se poteva se poteva farmi un autografo e lui mi chiese cosa facevo io gli risposi che stavo facendo una tesi di laurea su Lorenzo Lotto e lui guardando piazza San Marco disse quel guanto di Lorenzo Lotto nel ritratto di Brera ritratti veri intensi troppo veri troppo intensi Febo da Brescia aveva sposato Laura da Pola che era più giovane di lui di 20 anni lui è molto ottuso molto felice di aver impalmato una bella ragazza così giovane negli occhi e nella posizione di lei non si riconosce alcun coinvolgimento emotivo ci sono tanti elementi che arricchiscono l'interpretazione del quadro elementi di natura simbolica i guanti i guanti in un ritratto di questi anni sono sempre i guanti di fedeltà nel medioevo quando si sanciva un patto si consegnava un guanto un fazzoletto bianco come quello tenuto da Febo da Brescia non è un manufatto per soffiarsi il naso è il fazzoletto che indica il candore e la pudicizia della sposa che viene consegnata la sposa ritratta su un inginocchiatoio con un libretto che sarà evidentemente un libretto di preghiere per indicare che lei sarà una moglie devota però Lorenzo Lotto non riesce a trasmetterci quel senso di follia vorrei dire di gioia strana che ci aveva colpito nel ritratto del prado di Messer Marsilio e la sua sposa un velo di tristezza e di paura come un'ombra di malinconia si allunga nei ritratti di Lorenzo Lotto di questi anni guardate questo padre con un figlio sembra quasi ritrarsi come se sentissero l'imminenza di un pericolo e il papà si stringe accanto a questo bambino dall'aria terrorizzata è un quadro che se non fosse caratterizzato da vesti della metà del Cinquecento potremmo pensare a essere un quadro dell'inizio del Seicento Lorenzo Lotto intuisce che c'è una via diversa che si aprirà una via di verità una via in cui la pittura non è solo celebrazione non è solo ostentazione di uno status sociale economico politico ma non si poteva essere troppo contenti di ritratti di questo genere nel libro dei conti fioccano le precisazioni mi rifiutò questo ritratto perché disse che non era somigliante era una scusa evidentemente non stiamo parlando di questo quadro ma di altri comincia a lottare con i suoi committenti che non lo pagano mercanteggiano avevamo pattuito 50 ducati ha voluto darmene 20 ma tra buoni amici valeva 30 e ho dovuto accettare è costretto a un certo punto a dare impegno alle cose più care che aveva Lorenzo Lotto per mangiare chissà perché si trova di fronte ai personaggi che viene a ritrarre nel momento della difficoltà questo dipinto si conserva alla Galleria Doria Panfili di Roma ed è sempre stato interpretato come il ritratto di un 37enne ma quest'uomo non ha 37 anni è un vedovo che si è messo al mignolo la fede della moglie e la indica e si fa ritrarre di fronte al sepolcro della moglie circondato dall'edera l'edera che è un simbolo positivo virtus ascendit si legge in una incisione di Nicoletto da Moderna accanto a una edera e dall'altra parte raffigura che cosa raffigura guardate un po' un cupido con le mani giunte le ali le due gambe che appoggiano su una bilancia l'equilibrio è l'amore della sapienza così come l'aveva raffigurato in una delle terzie di Bergamo ma in questo caso non si guarda la terra non si guarda all'immanente non si guarda al presente si guarda al cielo si guarda al mondo oltre è un ritratto di un uomo dolente che chiama il pittore per essere rappresentato nel momento in cui dichiara la fedeltà a una sposa che ritroverà solamente dopo il suo ultimo respiro e Lorenzo Lotto si trova a maggior agio con personaggi che come lui hanno un grande interesse nei confronti della religione guardate questo ritratto di frate Gregorio Bello da Rivicenza era un frate che stava nel convento veneziano in San Sebastiano che aveva scritto un testo sulla crocifissione e che viene rappresentato con un libro aperto mentre si sta percuotendo il petto per essere compartecipe della crocifissione di Cristo del dolore salvifico di Cristo che viene in qualche modo a rivivere attraverso l'immedesimazione nella vicenda della passione di Cristo che ricava dalla lettura dei testi sacchi alcuni di questi religiosi chiedono di essere rappresentati addirittura nella forma consueta ormai di lotto del cripto ritratto con abiti di santi come in questo caso Pietro Martire Pietro da Verona che era stato ucciso con un'accetta che gli aveva spaccato il cranio ed era rimasta così in testa ed è il ritratto di un frate reale che ostenta un libro un libro che viene descritto esattamente nei termini in cui si presentavano delle edizioni di pregio nella Venezia di quegli anni e quando voi vedrete la mostra accanto a questo quadro troverete questo libro in pagine e copertina con le stesse decorazioni e poi succede una cosa brutta uno degli artefici della fama veneziana italiana europea di Tiziano lo scrittore Pietro Aretino gli scrive una lettera nel 1548 in cui sostanzialmente gli dice che Tiziano gli manda un saluto da Augusta dove sta lavorando alla corte di Carlo V dell'imperatore Carlo V attorniato da ogni onore e che vorrebbe poter sentire le opinioni sulle opere che sta facendo da Lorenzo Lotto che ha sempre una sincerità una bontà d'animo tale per cui ogni cosa che dice è reale non la dice se non la pensa vedete Olotto come la bontà buono e come la virtù virtuoso Tiziano sin da Augusta in mezzo la grazia di tutti i favori del mondo vi saluta ed abbraccia eccetera eccetera e poi alla fine dice certo voi non siete così bravo come Tiziano però però nessuno vi supera nell'ufficio della religione cioè nella pratica religiosa e così il cielo vi ristorerà di una gloria che passa del mondo la laude Tiziano aveva raggiunto la gloria in terra Aretino dice voi in terra la gloria non la raggiungerete mai però la raggiungerete quando sarete morto a causa della vostra virtù e della vostra bontà Aretino era veramente l'antilotto cinico spregiudicato spregevole Lotto era un uomo ossessionato da un'idea della giustizia con sempre questo anelito di infinito questa fu probabilmente la goccia che fece traboccare il vaso il fragile vaso del vecchio Lorenzo siamo all'interno di un ciclo in cui ci interroghiamo sulla era dello sgenios e si parla dei casi di Michelangelo di Raffaello di Tiziano di Tintoretto di Arcimboldo tutti costoro avevano saputo gestire la loro vita professionale in maniera macchiavellica strategica molto moderna avevano saputo scegliere dei portavoce come Pietro Arettino o come Baldassarre Castiglione o come Giorgio Vasari che li celebravano e li porgevano su un piano letterario agli onori delle corti perfino Leonardo quando cerca di essere ingaggiato da Ludovico il Moro dichiara tutta una serie di sue capacità l'ultima delle quali è la pittura Lorenzo Lotto non aveva saputo non aveva voluto piegarsi a queste logiche di autopromozione e quindi la sua vita finì ai margini forse la lettera di Arettino forse altre difficoltà a Venezia lo spinsero ancora una volta per l'ultima volta a imbarcarsi verso le Marche perché nelle Marche aveva comunque ancora una clientela ma era stanco sofferente si trascinava da un paesino all'altro realizzando opere fiacche tristi non innovative che paradossalmente come nel caso ad esempio dell'assunzione della Vergine in San Francesco alle scale d'Ancona vanno a ripensare a un modello del vincente tiziano di trent'anni prima forse le parole di Arettino avevano lasciato il segno e a questo punto cosa succede? succede che dopo aver raccolto le ultime commissioni aver cercato di vendere i suoi ultimi quadri attraverso una lotteria ad Ancona che andò malissimo decise di recarsi a Loreto dove c'era il santuario della Vergine da Ancona se ne va e si consegna si fa oblato nel libro dei conti noi leggiamo il 30 agosto del 1552 a di 30 agosto giunsi a Santa Maria di Loreto condotto con tutte le mie robe va lì va a Loreto e dopo due anni decide di farsi oblato di consegnarsi alla Vergine l'8 settembre il giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la Madonna di Loreto lui si appunta nel libro dei conti per non andarmi avvolgendo più in mia vecchiaia per non perdermi nella mia vecchiaia ho voluto quietare la mia vita dare pace alla mia anima in questo sancto luoco e fatto mio blato a perpetua vita cioè mi sono consegnato alla Vergine fino all'ultimo dei miei giorni e qui realizza delle opere che parlano della vittoria del bene sul male della virtù e della giustizia contro la fortuna realizza opere strane come questa presentazione di Gesù al Tempio in cui ci sono alcuni dettagli che lo vedete bene sembrano quasi avere un'intuizione di modernità un barlume di goia vorrei dire e in silenzio dopo aver accettato gli incarichi più umili come quello di dipingere i letti il numero dei letti degli ospedali Lorenzo Lotto in punta di piedi in silenzio aveva perso la voce ci diceva Sari esce da questo mondo lasciando le sue ultime opere che furono come le stelle che cadono nella notte buia di San Lorenzo forse si chiamava Lorenzo perché era nato proprio il 10 di agosto finito grazie 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 grazie